Ciao ragazzi, episodio numero 4 del making of relativo al nuovo disco di Mario Contarino, TVP Project. In questa puntata vedremo diversi contributi video forniti dai vari collaboratori che hanno filmato le loro sessioni in studio di registrazione. E niente, cominciamo subito e buona visione. Ciao. Ciao. Io sono Marco Pistone e lui è Gianluca Siscaro, il fonico che oggi mi ha aiutato a registrare le tracce di basso per il progetto TVP. Ciao a tutti, Lorenzo Venza qua, stranamente con un'acustica. Abbiamo appena registrato le chitarre per Good Luck, uno dei pezzi del disco di Mario, Musical Colors. E niente, non vedo l'ora che sia tutto pronto perché secondo me verrà una gran figata e ci sentiamo direttamente sul disco. Ciao a tutti. Allora, sopra il Venza e sotto Mario. Brutta detta così, con un bel guarda. Ciao a tutti. Abbiamo appena finito di fare tutte le ritmiche, 250.000 chitarre. Adesso ci divirtiamo a farlo. fare un po' di sole. Beh, suono. La cosa veramente incredibile è notare come ogni musicista abbia rispettato al massimo le parti originali di Mario, pur mettendoci chiaramente del proprio, mettendo la propria interpretazione personalità, ma neanche la propria personalità. Veramente un incredibile lavoro. Mario Contarino, la ricordazione del disco di Giacomo Anselmi. finito del summer. In me, in the Afterburner studio. Ciao, io sono Irma e il pezzo che andrò a registrare per Mario Contarino si intitola di Giacomo Anselmi. Ciao. 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 Ciao.